eccoci qua buonasera amiche buonasera amici questa sera vi immagino essere un po' più del solito quindi non mi perdo nei saluti così non mi cazziate che perdiamo troppo tempo buonasera a tutti quindi amici vecchi e nuovi del canale sapete che c'è un ospite che tanto amiamo su questo canale che insomma siamo sempre lieti quando ci viene a trovare è già qui con me collegato lo porto su fra un secondo non prima di dire brevissimamente una cosa sul anche il perché di questo video che in realtà devo appunto ringraziare corrado per la disponibilità praticamente immediata che mi ha dato perché tanti di voi che siete qui tanto stasera non ci mascheriamo il tema è quello siete già tantissimi eh immagino tanti di voi che siete qua avrete visto sicuramente o avrete sentito eh anche il video che ha fatto stesso corrado oggi pomeriggio ma anche quello appunto che ha scatenato questo video di corrado che è il video che ha fatto massimo politoro ora diamo appunto la parola a corrado io ci aggiusto qualche punto ma eh ho voluto ora vi racconto proprio come è nata questa intervista ho voluto approfondire un attimo perché per quale motivo su questo piccolo canale si è parlato tante volte di eh una dinamica che sta alla base di tutto questo sta alla base anche dell'essere e del fatto che uno come Polidoro lo dico apposta cioè uno come quei tanti che fanno lo stesso lavoro di Polidoro riescano a proliferare così tanto e cioè forse anche un po' la nostra mancanza di veramente della capacità di seguire dei ragionamenti complessi e quindi farci la corretta idea del personaggio ma tante volte queste persone basano il proprio ragionamento su alcuni assunti una serie di punti e poi vanno avanti ecco se noi avessimo la capacità di capire che quei punti non sono pali fermi ma non si reggono neanche in piedi allora già da lì potremmo capire che il ragionamento non fila cosa che fa esattamente Massimo Polidoro quando se la prende con alcuni personaggi io spesso mi ci sono ritrovato anche un po' coinvolto in prima persona quando se la prende con categorie intere eh ad oggi è successo proprio questo faccio salire il nostro ospite così ce lo racconta lui e cioè si è messo di nuovo ehm Massimo Polidoro a sproloquiare eh dimostrando semplicemente di non sapere cosa dice parlando del nostro amico benvenuto Corrado grazie e buonasera buonasera grazie dell'ospitalità no allora grazie a te come dicevo non l'ho neanche raccontato eh ti rubo questo secondo in più oggi appunto io ho chiamato Corrado come immagino in tantissimi infatti gli avevano già segnalato queste uscite di Massimo Polidoro eh e gli ho chiesto semplicemente se aveva voglia e ho detto guarda io onestamente mi sento anch'io personalmente di voler dire due cosette su questo argomento però Corrado se tu vuoi e se hai voglia eh invece di parlarne io eh ovviamente sei ospite più che gradito per cui eccoti qua eh da dove partire ti lascio la parola se vuoi sì 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 parliamo insieme ovviamente tanto questo è un'occasione per fare un approfondimento io in realtà eh non avrei mai pensato di parlare di questo argomento o di replicare a un signore che si chiama Polidoro che io manco mi sono mai filato nella mia vita ma l'ho fatto per una ragione semplicissima perché i commenti che ho fatto ieri quattro minuti dopo che usciva il filmato di Polidoro e parlava di me in un modo che secondo me non era corretto perché diceva delle cose che non erano reali quattro minuti dopo ero online e spalmavo una serie di cinque sei sette dieci commenti nella chat del 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 video e scoprivo che questi commenti mano a mano che venivano eh da me fatti venivano rapidamente cancellati ehm solo che non me ne sono reso conto subito me ne sono reso conto quando ho cominciato a rispondere ad alcune persone nella chat e queste persone mi hanno a loro volta risposto quindi ho ricevuto sulla mia posta elettronica collegata con youtube le loro risposte quindi il mio computer funzionava bene le mie risposte le mie le i miei posta arrivavano ma venivano cancellati non venivano cancellati subito e con una certa velocità quelli che invece erano nascosti perché erano sotto le risposte di altri interessante allora ho chiesto a qualcun altro di verificare se anche loro facendo dei commenti in mio favore eh riuscivano a vedere le mie le mie risposte allora le persone che facevano i commenti in mio favore venivano a loro volta cancellati divertentissima questa cosa e allora ho detto ma io come posso rispondere a massimo polidoro che in qualche modo dice la sua ma non mi permette di dire la mia per qualche misterioso motivo elettronico del computer per qualche misterioso motivo elettronico di di youtube per qualche misterioso motivo elettronico di massimo polidoro e non ci piace immaginarcelo a lui a cancellarli uno per uno e se li ha cancellati uno per uno è stato lì tutta la notte perché io ogni tanto mettevo uno e quindi devo aver rovinato la nottata però ho detto ma io in qualche modo devo rispondere e così ho fatto un video oggi pomeriggio ho messo su e però ora riprendo un attimo il discorso e faccio capire perché polidoro ha fatto un video su di me perché i suoi fan credo che si chiamino così va fan qualcosa i suoi fan gli hanno detto ma perché non smentisci anche quello che dice malanga e già qui la cosa interessante perché si deve studiare da un punto di vista sociologico c'è una categoria di persone che evidentemente non mi può sopportare e quindi dice io non c'ho coraggio di dire a malanga sei un coglione fallo te massimo polidoro che te di solito sei uno di quelli che dice agli altri che sono coglioni e allora massimo polidoro spinto dai suoi fan ha detto no io non in realtà non lo faccio e vi spiego anche perché non parlo di malanga e nel suo video ha parlato di malanga divertente questa cosa qui è divertente e esordisce dicendo ma io non parlo di questi personaggi come caria latonini e lì fa la prima cosa tendenziosa cioè dice sostanzialmente mi mette sullo stesso livello di personaggi che caria parla con gesù tutte le notti e latonini parla con gli alieni tutte le notti io non parlo né con gli alieni né con gesù tutte le notti io semmai parlo con i riferi di una rivista scientifica che mi pubblicano dei lavori scientifici al massimo quindi questo paragone che il signor polidoro fa è fuori luogo è fuori luogo ma è fuori luogo per quale motivo per due due ipotesi si possono fare primo polidoro è un ignorante cioè non ha capito che io sono una cosa diversa da o una tonini qualsiasi o uno che vede le madonne parla con gesù tutte le mattine e che poi pensa che gesù sia anche un alieno e io non sono quello lì allora polidoro è ignorante nel senso ortodosso del verbo e ignora le cose ignora le cose oppure le sa benissimo e lo fa apposta quale sarà la verità non ci è data di saperlo possiamo fare delle ipotesi che sono ipotesi scientifiche e sono ipotesi noi dobbiamo fare delle ipotesi e l'ipotesi è che secondo me è tutte e due le cose cioè è in malafede ed è ignorante perché l'ignoranza cioè l'incapacità di comprendere le cose è legata al fatto che uno si deve informare prima e infatti lui non si è informato e mi ha detto ma questo tizio qua si riferiva a me sostanzialmente è un povero vecchietto che tanti anni che non insegna più perché è pensionato come per dire i pensionati ormai sono relitti della società che devono morire e una volta insomma volta però dai milioni di anni fa insegnava all'università di pisa va beh una volta insegnava l'università di pisa ma ora è un vecchietto ricoglionito ti fa passare questo messaggio e poi figuriamoci parlava di ufo tanto tempo fa vuol dire secondo il mio modesto avviso perché io sono sempre un interprete di polidoro e potrei sbagliare nella mia interpretazione vuol dire già da allora era cretino quindi figurati oggi se questo parlava di ufo ma perché non c'è valità scientifica no secondo polidoro nel parlare di ufo e di alieni e qui però si è vero ha scritto ha pubblicato un lavoro scientifico ultimamente sulla piramide di cheope ma dai un lavoro scientifico su quale rivista una rivista che non conta nulla una rivista che per pubblicare devi pagare una rivista che quindi sulla quale possono pubblicare tutti ha detto lui e poi anche se ci fosse una validità scientifica ma questa deve essere comprovata mica il dal fatto che è stato pubblicato ma bisogna in qualche modo aspettare che la comunità scientifica prenda atto di questa rivista e la prenda in considerazione siccome nessuno dice polidoro prenderà atto di questa comunicazione scientifica che malanga e filippo biondi che è il suo co-worker in questo lavoro hanno fatto nessuno a nessuno interessa questa cosa probabilmente passerà in un dimenticatoio come tutte probabilmente le altre cose che che malanga ha fatto ora scusate ma qui c'è qualcosa che io dico forse non ho capito bene se polidoro c'è fa o c'è è sempre il solito problema secondo me c'è fa e c'è insieme ma è una mia ipotesi perché perché massimo polidoro non ha capito che la rivista che noi abbiamo utilizzato ha un impact factor elevatissimo e il nostro lavoro è stato selezionato visto corretto e approvato da almeno sette persone sei più il direttore della rivista il capo di tutti i capi non solo ma lui dice che questa rivista non conta niente questa rivista nell'elenco del miur perché questo va detto è una delle riviste di serie a che serve per l'acquisizione dei titoli per diventare professore all'università in italia come mai il come si chiama questo questo tizio di cui io dimentico il nome perché la mia testa lo rifiuta polidoro come mai lui non sa queste cose dice ma ognuno può pubblicare su questa rivista basta pagare polidoro ti spiego evidentemente te non hai capito su tutte le riviste scientifiche di un certo livello si paga per pubblicare lo sai science e nature quanto si fanno pagare per pubblicare 5.000 euro o 5.000 dollari che poi non c'è tanta differenza 5.000 te sai cosa sta cosa hai detto ieri nella tua intervista che tutti coloro che hanno pubblicato su nature o su science hanno pagato per farsi pubblicare le loro ricerche che quindi non valgono niente polidoro ma dove abiti dove sei su un altro pianeta questo lo dico perché ho scoperto poi perché io mi sono interessato ma chi è sto polidoro da dove viene fuori è il figlio segreto di piero angela c'era scritto su su sulla rete beh sì sì è la fotocopia del figlio in effetti si assomigliano tanto e io ho detto ma io non lo so se è vero o no però questo ha una validità scientifica perché perché sono uguali di cervello piero angela e alberto angela e polidoro su uguali cioè da un immagino tu magari sai la storia no polidoro fu pagato tutta la il viaggio in america proprio da piero angela che lo mandò a studiare da un famoso smascheratore di maghi james rendy sì james rendy che pare pare lo scrivono gli storici fosse pagato dalla cia per fare il debunker eh si chiama così eh cioè colui che spara cazzate al vento per far credere alla gente che bisogna farsi la punturina non so se ci avete presente in italia no sileri quella gente lì ecco no no tanto per ricordarci che in italia ci abbiamo lo stesso problema ma io dico ma mi fai vedere chi è questo qui da dove viene fuori e così scopro queste cose io non riesco neanche a però ecco devo dire una cosa ho scoperto sostanzialmente guardando su internet quindi come al solito sono cose di internet potrebbero essere sbagliate mi polidoro mi 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 smentirà quando te cerchi polidoro c'è c'è scrì c'è una 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 come si dice una scermata che ti fa vedere che ti fa vedere tutto quello che è che polidoro è e qui guarda ce l'ho anche qui ora te la faccio vedere perché è molto interessante guarda eccola qua ho visto il tuo video eccola qua allora dove è Polidoro? chi è? è un giornalista è uno psicologo è uno youtuber è un consulente è un presentatore televisivo è un produttore televisivo è uno scrittore per l'infanzia mentale ed è un professore universitario cioè di tutti questi titoli in realtà non c'è niente perché poverino è giornalista ma io non so se sia giornalista perché probabilmente sarà pubblicista l'ha fatto il concorso per diventare giornalista non lo so nemmeno deve dire lui psicologo non è sicuramente psicologo perché non è scritto all'albo degli psicologi youtuber certo youtuber è praticamente nel mio condominio ce ne sono almeno 10 di youtuber quindi voglio dire ed è un consulente consulente del che? consulente di cosa? anch'io sono consulente tu mi chiedi una consulenza e io ti dico come si avvitano le riti beh t'ho fatto una consulenza è un presentatore televisivo è certo che è un presentatore televisivo ma dove? di che? di quale rete? della RAI? del mainstream? è quel canale dove si dicono le bugie? è quel canale dove si dice tutto tranne che la verità? è quel canale che ti invita Zelensky al festival di Sanremo? benissimo ok no problems basta saperlo produttore televisivo produttore televisivo vuol dire che ha pagato per fare qualcosa va bene se ha pagato chi se ne frega scrittore per l'infanzia sì una trentina di libri per i bambini piccoli ha scritto questo sarebbe il suo lavoro ma lui che lavoro fa? cioè ce l'ha un lavoro sono impiegato alle poste sono e non so mi dica che lavoro fa così io sono stato docente universitario ora sono in pensione lui che cos'è? perché dico questo? perché è importante sapere qual è l'indice di credibilità della persona che ti dice delle cose e poi è un professor universitario no questa è una cazzata lui si spaccia per professore universitario perché nel 2004 ha tenuto un corso di 20 ore che non gli hanno rinnovato l'anno dopo non so per quale motivo pur essendo un corso importantissimo l'unico nel mondo in cui lui spiegava sostanzialmente come evitare di essere fregati e questo era il contenuto del corso a psicologia in una università di Milano corso di 20 ore meno di 3 crediti cioè sostanzialmente e non ho capito perché l'anno dopo non l'ha più fatto visto che questo corso era importantissimo era il più importante del mondo come dice lui nel suo blog la cosa mi sospettisce no? magari perché non ha avuto studenti perché sai quando gli studenti non si iscrivono al tuo corso che è un corso complementare di 20 ore succede che il corso si estingue allora ci si chiede evidentemente quando ti hai fatto questo corso magari gli studenti si sono rotti i coglioni hanno detto agli altri non ci andare da quello lì per carità ti fa perdere solo del tempo è un'ipotesi di lavoro però sta di fatto che l'anno dopo il corso e non gliel'hanno dato che te devo dire lui non è mai entrato in un laboratorio non ha mai fatto un esperimento non sa che cosa sia la scienza perché ha fatto qualcosa che riguardava l'aspetto psicologico della vita e le scienze esatte Polidoro lo deve sapere lo deve sapere perché è qualcosa che riguarda Galileo le scienze esatte sono la chimica la fisica la matematica e la matematica poi non è neanche una scienza ma è un linguaggio non mi risulta che la psicologia sia una scienza esatta forse mi sto sbagliando ma la teoria di Galileo l'idea di Galileo era questa bisognava fare delle prove fare delle misure andare in laboratorio cosa che mi sembra che Polidoro non abbia mai fatto nella sua vita quindi Polidoro vende sostanzialmente una immagine di sé che non ha niente a che fare con la realtà oggettiva di chi è veramente Polidoro e Polidoro mi viene a dire a me che io ho fatto un lavoro scientifico pubblicato su una rivista scientifica che non è una rivista scientifica che non ha nessun valore perché nessuno la cagherà Polidoro ti rendi conto che ora questa sera il mio amico Filippo Biondi ha deciso di mandare la tua dichiarazione e il tuo video al direttore della rivista scientifica per vedere se questo ti querela e se questo ti querela te c'hai la querela automatica di 150 riviste che sono le stesse riviste del gruppo di riviste che sostanzialmente hanno pubblicato la nostra ricerca sulla piramide di Cheope non solo ma te ci avrai anche 10.000 20.000 ricercatori scientifici del mondo che hanno pubblicato su queste riviste di impact factor elevato e di fascia A nel nel miur italiano i quali si incazzeranno perché te gli hai praticamente detto che loro hanno pubblicato lavori su una rivista che non conta niente e che nessuno li cagherà ti rendi conto polidoro di quello che sta succedendo a casa tua domani mattina io non lo so se questo se ne rende conto io gli vorrei dire guarda preparati un po' di avvocati perché secondo me una decina non ti bastano eh e ho anche tanti soldi perché io non credo che ti querelerò mai perché a meno che tu non insisti allora sono costretto a farlo ma sostanzialmente è sparare con un cannone su una farfalla cioè Polidoro ha un passato che è sotto gli occhi di tutti cioè lui ha detto delle cose nella sua vita tutto quello che ha detto si è rilevato sbagliato cioè ha parlato ehm che ne so dell'11 settembre sparando cazzate al vento ha parlato dell'omicidio di Kennedy ehm sparando cazzate al vento tutte dimostrate eh tutte dimostrate ha parlato di Peralbul se non mi ricordo male sparando cazzate al vento e e che sai quante altre non parliamo del problema degli alieni degli UFO gli alieni e degli UFO questo stizio probabilmente non credo che abbia mai letto un lavoro scientifico sicuramente non ha mai letto nessuna delle mie 25.000 pagine che ho scritto negli ultimi 40 anni cioè non se ne è anche documentato non ha neanche la più pallida idea di cosa sia il problema abject eh unidentified non lo sa si vede da come si esprime da come si muove da come parla le sue fotografie le fotografie di del povero ehm omino di cui stiamo parlando sono sempre sorridenti e lui con le braccia incrociate così tutte tutte infatti guarda no sai allora ti interrompo se mi permetti per un secondo solo perché davvero poi ecco c'ho un occhio pure ai commenti c'è un un poverino che ha bisogno di tanta attenzione che vuole essere cacciato invece noi siamo magnanimi non cacciamo nessuno accettiamo chiunque facciamo cerchiamo di essere a servizio di chi anche di chi non c'ha niente da fare per quanto mi riguarda e con lo stesso spirito io direi piuttosto che farti scaldare a te che non ne vale neanche la pena ecco come dicevano alcuni in chat no c'era prima la diatriba su non dovresti neanche metterti a rispondere a queste cose o invece chi diceva no deve farlo io sono del parere so che ne parlavamo poc'anzi prima di iniziare ecco so che sei del parere che vanno date queste risposte io la penso esattamente come te e quindi ti stavo dicendo prima che cominciassimo perché non prendiamo questo come ha detto lui poi noi prendiamo esempio da tutti lo stesso Polidoro dice dovremmo sfruttare lui dice che fa questo video rispondendo a perché non critichi Malanga e altri dice beh per questa volta lo faccio così prendiamo solo per esempio per spiegarvi certe dinamiche ecco facciamo la stessa cosa prendiamo un attimo lui in esame io poi ecco io riguardo alle definizioni io non ci ho trascorsi io non so nessuno mi autodefinisco un cialtrone e mi va benissimo così quindi fino alla morte non ho necessità diverse da questo anzi per me è una grande difesa per cui no un cialtrone può di quello che gli pare uno per cui mi sta benissimo però ecco mi permetto di dire la mia chi ha bontà mi sta a sentire per esempio parlando ripeto prendiamolo come esempio perché veramente sarebbe pure te lo stavo dicendo pure questo il fatto che tu abbia accettato stasera l'invito ha evitato a chi segue me di vedersi uno sfogo di mezz'ora con la vena gonfia perché mi sarei messo a prenderlo ma ero scaricato la trascrizione del suo discorso perché come dicevo prima di farti entrare se uno si ferma a sentire gli assunti sui quali questo baso ragionamento basta ascoltarlo per un quarto d'ora e si contraddice da solo e veramente ci si rende conto della pochezza del personaggio quindi se tu vuoi ma tanto rimaniamo sull'argomento però ecco lo affrontiamo in maniera che sia utile davvero pure a chi ci sente per per aprire gli occhi pure su chi e come e perché ci dicono le cose tanto ringrazio Lizzi sì ringrazio l'amico William di prima che siete stati velocissimi per esempio già dall'inizio tu dicevi adesso ti ho affermato proprio su questo infatti il suo sorrisetto il suo modus esatto se uno se ne intende io sicuramente molto poco rispetto anche a uno come te di PNL però io potrei dirlo in maniera semplice è davvero un saper recitare è davvero un grande attore no? perché quel suo dire mi avvicino anche al monitor quel suo dire guardatemi l'espressione per esempio vedete amici perché noi qui vogliamo solo fare un lavoro serio vogliamo essere scientifici invece altri beh che non sanno cos'è la scienza ecco con questa sufficienza io non trovo altri aggettivi con questa sufficienza che già presuppone e se mi permettete io lo dico nel francese che mi viene da degli idioti al pubblico cioè insulta l'intelligenza della gente che lo guarda perché prende tutti per coglioni si dice a casa mia e praticamente dice adesso ascoltatevi a me il suo video comincia ti rilascio la parola da dire guardate cosa mi ha scritto tizio Caio perché non mi dici cosa ne pensi della teoria di Malanga che ha fatto la SAR la tecnologia lì e ha visto dentro la piramide e dice così così cosa ne pensi lui guardatevi il video di Polidoro chi non l'ha visto lui dice adesso ve lo spiego io voi cercate ma accuratamente cercate una risposta in quel video che non esiste non c'è blatera per 20 minuti di nulla e quindi ecco e passerei all'altra cosa poi ti lascio la parola dimmi che ne pensi se vuoi sulla PNL e poi sul fatto la prima cosa di cui lui ti rende responsabile a te ma uno deve dare l'onere della prova soprattutto dice lui se mi fa affermazioni straordinarie e paragona il lavoro tuo al fatto di dire io ho un unicorno in giardino e io l'ho detto a te in privato il fatto è questo è che è straordinario solo per lui che è rimasto a 50 anni fa a livello scientifico tu le prove le hai portate e lui che non le ha studiate non le ha criticate non le ha argomentate no certo io e ancora una volta c'è il dubbio c'è o ci fa cioè è cretino è scemo cretino no è scemo o o è tendenzioso ecco questo è un problema da risolvere io credo di averlo risolto questo progetto poi se volete ve lo dico se lui avesse letto l'articolo e io come dico l'ho detto anche stamattina prima se lui diceva l'articolo non ci avrebbe capito un cazzo lo stesso perché lui di radar all'apertura sintetica non sa nulla se io gli chiedo che cos'è una trasformata di furie si butta dalla finestra ma ma non solo se io gli dico perché 2 più 2 fa 4 lui si butta dalla finestra perché lui probabilmente lo sa che 2 più 2 fa 4 ma non ha la più palida idea del perché 2 più 2 faccia 4 se ho sbagliato lui domani fa un video e mi dice perché 2 più 2 fa 4 così vediamo se la sa no? bene a questo punto lui avrebbe dovuto vedere che nell'articolo ci sono delle fotografie queste fotografie sono la rappresentazione di quello che c'è all'interno della piramide non è che bisogna aspettare la prova bisogna vedere se è vero o non è vero bisogna capire questo quello o quell'altro ci sono le fotografie Cristo la vuoi vedere è una fotografia o non sei neanche capace di vedere una cazzo di fotografia oppure mi fai come i terrapiattisti che ti dicono siccome la terra è piatta i satelliti non esistono allora il lavoro di Malanga è una cazzata perché Polidoro sei a quel livello lì cerebralmente oppure quindi noi non ci possiamo aspettare da un soggetto del genere la prova la prova è come come dico io il chiodo nel muro il chiodo nel muro va visto per vederlo tu devi essere attraverso hai un'acquisizione di consapevolezza e di coscienza la coscienza di Polidoro è 0,35 forse cioè Galileo diceva per me Galileo è superato ma siccome Polidoro si riempa la bocca della parola scienza probabilmente con tante H finali allora gli spiego una cosa che Polidoro non ha capito che cos'è la scienza il primo punto mi basta il primo punto accorgersi che esiste un fenomeno fisico da studiare se te non te ne accorgi non lo puoi studiare allora Polidoro ti sei accorto che ci sono gli alieni in giro per la strada no non se ne è accorto Polidoro ti sei accorto che ci sono quei fenomeni di cui te parlavi tanti anni fa il crop circle in Inghilterra ma in anche altre parti del mondo e cosa ha detto Polidoro il crop circle le fanno le moffette in amore che si rottolano nel campo e producono tutte quelle cose lì allora veramente te sei molto meglio di Vanna Marchi perché almeno Vanna Marchi strillava e ti convinceva che te non dovevi morire e l'unico modo per non morire era comprare i suoi prodotti di bellezza e Polidoro cosa fa? sostanzialmente come Vanna Marchi dice mi raccomando non crediate a tutte le cose che vi fanno pensare che vi fanno acquisire consapevolezza di voi quella è roba faticosa lasciatela ad altri a chi comanda voi vivete tranquilli nel vostro mondo che vi guardate la televisione vi guardate i programmi di Piero Angela che copia il National Geographic e fa finta di averli fatti lui quei documentari sparando una marea di cazzate allucinanti da un punto di vista scientifico Piero Angela è ed è sempre stato zero zero scientificamente zero certo Piero Angela mi sembra che abbia 5-6 laurea ad honorem allora ricordiamolo che non c'è più diciamolo Piero Angela 6 laurea ad honorem io ho una laurea vera la mia laurea vera conta un miliardo di più di tutte le tue cazzo di laurea ad honorem che non contano una bella sega di nulla perché bisogna essere chiari su questa cosa chi è entrato in un laboratorio chi ha fatto le esperienze chi ha lavorato chi ha avuto gli studenti chi li ha laureati con un voto minimo di 110 e lode io no sto cazzo di Piero Angela o una marea di suoi figli figliocci che sono sparsi un po' in tutto il mondo questo deve essere ben chiaro chi è lo scienziato Malanga o Polidoro Polidoro a me non mi rappresenta un cazzo di nulla questo va detto chiaramente mi sembra che sia abbastanza chiaro mi sembra che sia abbastanza chiaro a me dispiace davvero nel senso che provo una sincera amicizia per cui mi dispiace vederti infervorato come si dice ecco mi dispiace se gli diamo davvero più peso di quello che c'ha ecco però capite che io non c'ho problemi io sono tranquillo non faccio un discorso per Polidoro contro Polidoro con il quale devo dire non ho nulla contro Polidoro no il mio discorso ha un altro scopo il mio discorso è quello di so che ho una speranza è una speranza molto lontana da realizzarsi e che i suoi 250.000 followers capiscano che stanno seguendo il flautaio magico questa secondo me è la parte di importanza la parte del 2023 ma io capisco perché questo è anche un problema sociologico guardate questo è il problema sociologico che si rivede un po' in tutta la situazione degli ultimi due anni no? c'è stata una cosa che si chiamava pandemia c'è stata un bel po' di gente che si è cosata sul braccio senza un motivo senza una ragione senza una ragione pseudoscientifica ma neanche pseudoscientifica senza una ragione vera e propria ecco probabilmente Massimo Polidoro si è già fatto 15 iniezioni perché o magari non se ne è fatta neanche uno ma fa finta di essersene fatte 15 io non lo so questo però chiediamolo a Massimo Polidoro te da che parte stai in questi ultimi due anni da che parte stai da un punto di vista scientifico te ti sei punturato oppure no? beh lui no no propaganda assolutamente infatti aggiungo una cosa io su questo perché davvero noi almeno il mio intento e so che è pure il tuo lui sicuramente si è si sarà punturinato perché ha propagandato sempre i benefici del sistema sanitario in questi anni quindi lui spinge assolutamente quella narrativa però io a onore del vero e guardate lo dico anche sapendo che poi mi si dice ah Cristallo vorrebbe solo lo fa per le visual quello e quell'altro tu sai Corrado io ti ho sempre detto che so che ti chiamano tanti e io non ti voglio mai rompere le scatole quindi oggi grazie a uno sfogo alla fine poi tu stai qua quindi io non dico adesso non invito Polidoro al confronto per fare le visual tanto sono abbastanza sereno del fatto che non mi fila per niente non verrà mai ma non lo deve fare sul canale mio però sarebbe utile davvero perché io voglio dare invece il beneficio del dubbio che è una cosa che predico sempre su sto canale anche a un signore come Polidoro che io invece non posso ritenere completamente stupido perché non fosse altro che come dire sta sul pezzo da così tanti anni che dovrebbe essere veramente stupido per non aver capito certe cose quindi lo metto nella sezione di quelli che lo fanno di proposito quindi mentono sapendo di mentire ed ecco perché secondo me non affronterebbe mai un vero confronto il problema è che non serviresti nemmeno tu basterei anche io a mettere in difficoltà Polidoro nel senso di dover poi lui di fronte a certi dati annunciati come si deve che sui nostri canali ormai grazie anche a uno come te conosciamo a memoria sarebbe lui poi a dover portare l'onere della prova da smentire dopo tutti i nostri dati ecco perché non entrerà mai nello specifico delle cose ti posso assicurare che non lo farà mai perché non ha nessuna intenzione di farlo e non ha nessuna intenzione di farlo perché se no non mi cancellava i commenti che io avevo fatto quindi nell'istante in cui c'è questo tizio che ti cancella i commenti e ti ti ricorda in qualche istante un periodo in cui c'era un signore che si chiamava Benito in Italia e che voleva che solo la sua idea venisse fuori ti ricorda l'idea che un certo Mario Draghi in un certo conte ultimamente hanno utilizzato in questo periodo cioè te devi pensare come vuole lo Stato e non ci devono essere dissidenze perché se ci sono delle dissidenze poi poi dice ma quello la pensa diversamente fammi un po' pensare porca puttana ma sai che ha detto delle cose vere ti immagini i 250.000 followers di questo tizio quando compare un discorso che dice ma guarda che questa rivista è fatta così 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 te hai detto una serie di stronzate che sono questa 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 e questa ma come ma ma come ma Polidoro non diceva le cose giuste non professava la realtà non vedeva la Madonna in camera tutte le sere no no e allora magari qualcuno ci ripensa e magari da 250.000 visite di ieri domani mattina sono 50.000 se lo può permettere Polidoro che guadagna con le visite sul suo sito non se lo può permettere perché se ci avesse un lavoro probabilmente avrebbe uno stipendio e non ci avrebbe il problema di lavorare nel tentativo di far credere che la sua credibilità è alta perché la sua credibilità è alta nella funzione in cui c'è una marea di deficienti che ci crede come Vanna Marchi oh Vanna Marchi aveva un impact factor incredibile sostanzialmente su YouTube oggi Vanna Marchi avrebbe spopolato altro che Bio Blu Vanna Marchi questo è un problema per chi non ha un lavoro bisogna che in qualche modo trovi il sistema di guadagnare in altro modo perché poi non avrà la pensione quando sarà anziano io capisco tutte queste preoccupazioni che potrebbe avere quella famigliola però questo se da una parte io lo capisco dall'altra parte dico sì però siccome te non hai soldi non è che devi andare a rubare come? a rubare sulla stupidità della gente perché questo è un reato è un reato grave sai quanta gente crede per esempio ma guardate che questa è una cosa che in Italia succede normalmente il 45% degli esseri umani in Italia crede che il mondo abbia 4.000 anni perché lo dice Radio Maria no? il 45% degli italiani crede che esista una figura storica di Gesù Cristo che non è mai esistita alla storia nelle facoltà di storia si insegnano queste cose vere ora il Papa non te lo dice ovviamente però chi ha studiato chi ha voluto fare un percorso di acquisizione di consapevolezza e di coscienza lo sa lo sa in questo contesto che differenza vedete il mondo è duale uno pensa che ci sia la dualità quindi da una parte c'è il CICAP con Polidoro e dall'altra parte c'è che ne so il centro ufologico nazionale che si litigano tra di loro e io che cosa scopro che Polidoro si inventa un sacco di titoli che non ha e il direttore del centro ufologico nazionale un fa uguale ma poi sta pure nel CICA poi pure Pinotti o no? che non credo no non lo so no sono due massonerie diverse credo Pinotti il dottor Pinotti si spaccia per sociologo quando non lo è si spaccia per spettatore aerospaziale quando non lo è si spaccia per futurologo io non ho capito che titolo di studio sia futurologo ha anche una pseudo laurea in economia di un istituto svizzero che per quanto ne so gli ha regalato questa laurea perché lui ha fatto dei favori al direttore dell'istituto di economia svizzero ma io questo l'ho scrissi tanti anni fa su un articolo che parlava proprio di queste misinterpretation della gente no? sto ancora aspettando la la come si dice gli avvocati di Pinotti che mi dicono che io non ho detto la verità sono passati vent'anni almeno da quando ho scritto quell'articolo ci sono state delle agitazioni all'interno del centro ecologico nazionale poi non è successo niente forse perché era vero no? Polidoro è lo stesso cioè sono quei personaggi che però hanno io credo da un punto di vista psicoanalitico io non vorrei fare della psicanalisi spicciola perché non è il mio compito però a volte mi riesce bene ci sono dei personaggi che si inventano un ruolo nella società che probabilmente non hanno trovato un ruolo da svolgere non so faccio il falegname faccio il muratore faccio il docente universitario faccio l'astronauta non sanno che cazzo fare e allora si inventano un ruolo faccio l'ufologo ma c'è poca gente che fa faccio l'ufologo io poi divento subito perché siccome non c'è nessuno esperto di ufologia divento ganso faccio il contro-ufologo perché in automatico nasce anche la necessità di avere una controparte in questa dualità e io ho sempre detto che la dualità è finta cioè non esiste la destra e la sinistra ma esistono due coglioni che sono sempre collegati a una massoneria centrale che utilizza questi due come burattini sostanzialmente è una necessità delle persone necessità biologica fisiologica psicologica di trovarti un ruolo e il ruolo se non ce l'hai te lo trovi è uno dei ruoli più belli che ci sono che c'è che può essere utilizzato e che non dà tanti rischi è il ruolo di colui che dice agli altri te hai sbagliato tutto senza dirti però qual è la verità cosa si deve fare ecco io mi ricordo ci sono dei personaggi che io ho conosciuto di questo tipo qua ci sono anche nel campo ufologico quando io ero nell'ufologia c'era un centro che si chiamava CISU centro italiano studi ufologici ecco quelli erano gli ufologi che dicevano tutto quello che dicono gli ufologi è sbagliato è troppo divertente è troppo bello e poi non rischi è sbagliato dimmi allora cosa ne pensi te è come se io chiedessi a Polidoro benissimo mi dici per favore dove io ho sbagliato nell'articolo scientifico che ho fatto che io glielo dico guarda siccome Polidoro qui sarà qui con un nome finto che sta guardando questo filmatino che noi ci stiamo facendo tra di noi perché questa gentaglia un po' è così lo salutiamo Massimo Massimo ciao Massimi c'è uno che si chiamava Massimo non voglio dire se no prendo un'altra querela che sembrava un genio ma invece era un po' poi dico insomma voglio dire visto che ci stai a sentire mi prepari un elenco di cose che io ho sbagliato nella vita e che ho detto male che non ho detto che non ho provato e mi comprovi però con le tue prove che io ho sbagliato e mi fai un elenco domani mattina lo pubblichiamo tutti quanti insieme va bene preparati l'elencuccio se te non mi prepari l'elencuccio vuol dire che ti hai sparato in tutti questi anni una marea di gigantesche cazzate perché non c'è un'altra no è vero e da qui ti fermo ma solo per farti riprendere fiato e provo a perseguire il mio modesto obiettivo ecco ma ti riporto su una frase che diceva lui appunto in questo video che prendiamola cioè ti chiedo cosa ne pensi lui dice perché davvero insomma a scopo scientifico pure io con molta modestia cerco di capire poi in maniera scientifica o meno lo lascio decidere agli altri io cerco di capire meglio che posso e come dici tu Galileo ci ha spiegato che si fa in una certa maniera anche se è superata mi è piaciuto molto quello non approfondiamo ma è bello il che tu dica perché perché anche le prove sono di altra natura ormai ma Polidoro dice perché vedete queste teorie sono assurde quelle di tutti ecco di nuovo generalizzando quindi mette insieme tutti da uno come te a uno come me a uno come Bon Giovanni tutti nello stesso calderone ma perché tutte queste teorie non sono basate sul niente eccetera eccetera perché dice lui perché la scienza è sempre andata avanti migliorandosi facendo un pezzettino in più migliorando sempre se stessa facendo sempre una conoscenza più precisa che già secondo me non è così e poi dice infatti non potrà succedere più niente che sposta le cose che ormai già sappiamo e secondo me di nuovo è sbagliato pure questo come la vedi una cazzata megagalattica allora spieghiamogli perché ecco spieghiamogli perché perché la scienza innanzitutto non ha niente a che fare con l'esattezza punto numero uno chi dice che la scienza è esatta della scienza non ha capito niente la scienza è un upgrade continuo quello che succede è che per esempio la formula è corretta ma l'interpretazione della formula cambia nel tempo quindi ora sconvolgerò il buon Polidoro dicendogli che la forza di gravità non esiste non è che io sono un terapiatista la forza di gravità perché i terapiatisti credono alla forza di gravità non hanno capito come funziona ma ci credono la forza di gravità non esiste non so Polidoro non so se l'hai capito ma non è una forza non è una forza niente non cadeva la forza poi è venuto Einstein che ha detto che la forza non esiste ci hai presente un pochino di fisica Polidoro che te fai lo psicologo non so che cavolo fai perché non si è capito dal curriculum tuo cosa fai il tuo lavoro vero qual è? dov'è che prendi lo stipendio Polidoro non esiste ma ti dirò di più che anche il povero Einstein con la pigatura dello spazio-tempo sbagliava perché ora ci sono le teorie di Verlinde le teorie di Maldasena che parlano di un universo olografico c'hai presente Verlinde e Maldasena Polidoro te ne sei studiato e un pochino di formulette della fisica visto che te ci in bocca ti metti sempre la parola scienza con la 60.000 A ecco quindi la formula alla fine era sempre la stessa ma tutto quello che c'è dietro è completamente differente è tutto cambiato allora uno che non è mai entrato in un laboratorio e che non sa perché 2 più 2 fa 4 come te Polidoro ma perché vieni a parlare di scienza zitto zitto devi stare zitto da un punto di vista democratico tutti possono sparare le loro puttanate però bisogna comprendere che c'è una cosa che si chiama indice di credibilità l'indice di credibilità si basa sul fatto che una persona è risultata credibile perché da qui dall'inizio delle sue dichiarazioni a oggi le ha azzeccate un po' te non ne hai azzeccata nemmeno una in 30 anni di vita quindi chi è che dovesse giocare su di te come un cavallo giocherebbe su di te nessuno punta su di te tranne 250.000 persone che credono come gli utenti di Vanna Marchi che te gli salverai la vita perché te gli hai promesso che loro non devono pensare tu pensi per loro e questo è il problema di quei 250.000 poveri disgraziati la chiesa li chiama poveri di spirito che ti sostengono e che ti danno le donazioni sul tuo canale perché sicuramente il tuo canale è monetizzato cosa ci possiamo fare noi io cosa ci posso fare niente e non ho intenzione di farci niente però io non sono come Mazzucco che ti dice guarda che te hai detto una marea di puttanate io sono uno che questa cosa qui non te la fa passare e ogni giorno ora da oggi in poi entrerà nel tuo canale guarderà tutti i video che fai segnerà tutte le puttanate che scrivi e non te ne perdonerà più una fino alla tua morte no è improponibile è una mole talmente grande credimi ci volevo lo volevo fare io tempo fa ma non c'è stata fa stare dietro talmente tante le cose che per quello io ho degli esempi nella mente che ci potremmo perdere veramente ore sosteneva per esempio l'inesistenza di nessun tipo di fenomeno e poi diceva vedete perché questa cosa non mi ricordo neanche se parlava comunque dell'aver visto qualcosa dice accade in norvegia accade in svezia accade in francia accade in germania accade qui 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 però c'è il libro di uno psicologo amico mio che spiega che questa è una visione di gente che non sta bene con la testa e quindi siccome l'amico suo ha scritto quel libro in giro per il mondo sono tutti cretini cioè cioè praticamente un terapiatista non so se io io sai che tengo il dubbio aperto su tutto quindi non me la prendo insomma non lo so io sono convinto sulla terra dico la mia velocissimamente ma credo come ne abbiamo già parlato che sia più grande di quanto pensiamo ci sono tante mappe nomino solo la Kobayashi che vedrebbe altri 27 continenti oltre l'Antarsite quindi chi lo sa magari è voglio dire potrebbe essere veramente di qualsiasi forma per quello che ne sappiamo noi però sono abbastanza convinto che esista un universo qui intorno per cui ecco quello sì ti faccio una mia domanda personale a cui se vuoi puoi rispondere a bruciapelo anche con un sì o con un no o con non me ne frega ma prima hai detto della gravità ma non sarà che pian piano arriveremo davvero a mettere su carta dico in senso di equazioni che è la coscienza che collassa la funzione d'onda sì è così è assolutamente così io su questo farò una conferenza mi sembra il 2 o il 3 giugno a Ciriè dove dimostrerò che la gravità è una forza coscienziale invito Massimo Polidoro a farmi delle domande in diretta in quella circostanza sapendo che lui di numeri non ne capisce un cazzo però magari e di scienza nemmeno però magari una sua butade lì che fa ridere tutti può essere interessante beh se lo invidi vorrei esserci insomma mi prenoto un posto ecco poi insomma vabbè io ti ringrazio mi faceva davvero piacere anche e ti ringrazio insomma di aver scelto questa piccola mia casetta per io vi ricordo ecco Corrado sul canale delle sue conferenze ha comunque pubblicato un video già oggi dove rispondeva lui senza bisogno ovviamente della mia assistenza però mi ha fatto davvero piacere che insomma tu abbia venuto non siamo soli io poi compaio io ma vi ricordo che il lavoro per esempio sulle piramide è stato fatto da Filippo Biondi che ha un curriculum personale che è allucinante come esperto di radar mondiale di radar all'apertura sintetica soprattutto quindi voglio dire che tu mi hai mandato e se vuoi facciamo anche vedere certo volentieri se vuoi ho parlato troppo breve no lo recupero l'ho recuperato eccolo qua perché così la gente si rende conto sostanzialmente la gente si rende conto sostanzialmente che tenete presente che il nostro lavoro scientifico viene visto quotidianamente da decine e decine di persone che è una cosa estremamente importante non è come dice Polidoro ma questo lavoro non lo guarderà nessuno perché non interessa nessuno scusate no infatti ecco in realtà mentre faccio casino con le pagine questo mi porta a un'altra domanda proprio relativa a quello che ha detto lui dammi un secondo che sì la pagina giusta per esempio lui ha parlato proprio di questo anche del fatto che dice ma infatti chi faceva i commenti a lui e hanno scritto ma infatti non c'è stato tutto questo clamore c'è del silenzio in merito e io direi appunto in un mondo dove il mainstream fa il bello e il cattivo tempo tanto eccolo l'altra pagina che volevo farvi vedere del insomma il curriculum del dottor Biondi però in un mondo in cui il mainstream quindi fa e se la racconta come vuole a uno come me il fatto che certe cose una volta scoperte una volta che la ricerca viene fuori vengono passate sotto silenzio tra virgolette invece mi fa pensare bene cioè vuol dire che lì c'era del vero non vi aspettavate certo che le ricerche del professor Malanga andavano a finire ecco su super quark perché se è così se vi aspettavate questo non avete capito come funziona il mondo non solo vi dirò questo ma vi dirò che in realtà noi abbiamo ricevuto molte lettere di apprezzamento del nostro lavoro sia da soggetti che lavorano con il radar ad apertura sintetica nel mondo sia da soggetti di livello internazionale che studiano le diverse forme di piramidi nel mondo senza bisogno di fare i nomi sono nomi che trovate dappertutto nel web il fatto che il figlioccio di Piero Angela ci dica che sostanzialmente il nostro lavoro non ha rilevanza scientifica perché nessuno se lo fila mi fa pensare che lui mi guardi nella posta elettronica perché non so come faccia a sostenere una cosa del genere sostanzialmente questo si chiama bugiardo io vi aspetto sempre la querela si chiama bugiardo uno che dice una falsità si chiama bugiardo non sproveduto bugiardo per cui io dico va bene se fosse uno sproveduto sai ci sono gli sproveduti che sparano cazzate al vento non si rendono conto neanche della gravità delle cose che dicono certo mi ricordo Mario Draghi mi ricordo Sileri mi ricordo Conte mi ricordo ma anche la povera Giorgia Meloni cioè sparano cazzate al vento ma loro non si rendono conto delle cose che dicono e allora li lasciamo stare perché sono poveri di spirito se però ci accorgiamo che questi lo fanno apposta allora io gli stacco i coglioni a morsi perché io sono fatto così io non sono buono io non sono buono come Mazzucco io ti stacco i coglioni a morsi e te lo dico io tranquillamente non c'ho nessun problema quindi occhio alla penna perché se no poi perdi gli attributi e direi che con questo abbiamo fatto comunque un'oretta Corrado io ti ringrazio spero che insomma sia stato anche per te vabbè ripeto non ti serve certo questa finestra però ha fatto piacere a me e immagino anche ai tantissimi che ci hanno seguito e spero davvero anche a quelli magari che sono capitati qui incuriositi dalla vicenda che magari seguono Polidoro io davvero ora non ti voglio dediare non so non voglio abusare neanche del tuo tempo però davvero è su quello che io mi soffermerei persone come quelle continuano a vincere solamente come hai detto tu prima in forza dell'ignoranza nostra pure diciamo così ecco tu hai citato tutta la sera e lo trovo corretto in un certo senso paragone vannamarchi e io ero uno di quelli che ha sempre detto hanno fatto benissimo a dare dieci anni a vannamarchi ma anche cinque a quelli che continuavano a telefonare io forse gliel'avrei dati ecco ma guardate che io guardavo le cose di vannamarchi con estremo interesse comunicativo perché studiavo la comunicazione era affascinante vannamarchi come sempre guardavo sono stati periodi in cui io mi collegavo a Radio Maria per sentire tutte le cazzate che diceva Radio Maria ed ero affascinato dal come queste cose venivano dette quindi è perché ho dovuto capire queste cose ho dovuto comprendere veramente c'era bisogno di fare un corso come lo voleva fare nel 2004 il buon Polidoro cioè lì c'era veramente la comprensione del perché la gente in Italia si è vaccinata benissimo è uno così che parla di senso lui che crede di poter spiegare il senso critico quando ma veramente è un ossimoro sì ma io voglio dire se fosse mai entrato in un laboratorio avesse fatto un esperimento nella sua vita invece di controllare gli esperimenti degli altri come fai ad avere la capacità di controllare gli esperimenti degli altri se tu nella tua vita non hai mai avvitato una lampadina bisognerebbe che questo quelle 250.000 poveri disgraziati che lo seguono se ne rendessero conto di questa cosa no allora io il messaggio non è a Polidoro che poverino ha i suoi limiti e si deve anche trovare da mangiare evidentemente lo fa perché se no non mangia ma non è come me che io ho fatto un lavoro ho una pensione in qualche modo sopravvivo lui non so che lavoro fa quindi non so neanche se un giorno avrà la pensione quindi capisco che si preoccupa ecco di questa cosa ma io io pure io pure sono altro scappato di casa ciò non toglie che uno tiene un intento fermo e non sarei mai pronto a dire delle cose piuttosto che altre cosa che lui invece ecco ci passa sopra assolutamente cioè tutti sei meravigliato ecco e hai detto mi sono messo a vedere come mai lui quali sono i metodi che lui che fanno sì che lui riesca ad adattare tutte queste persone io invece rimango perplesso dall'altra parte della medaglia cioè da come mai tutte quelle per c'è nel senso che io con la mia percezione che non è certo invece quella di uno scienziato la mia e quella di uno illuminato eppure quando sento uno come Polidoro ho la capacità cognitiva di capire che mi si stanno propinando una marea di sponzate come mai c'è un'enorme parte di popolazione che invece non riesce a capire questo perché c'è la lieta novella la lieta novella è semplice la lieta novella è la psicoanaliticamente parlando la la beffa della religione cattolica tu non soffrirai tu non morirai anche se tu muori andrai nel paradiso terrestre questo succederà se fai quello che dico io questa è la lieta novella e persone come i preti come il cica sostanzialmente come Polidoro come Vanna Marchi raccontano è qualche cosa di estremamente tranquillizzante no? i cattivi saranno sconfitti i buoni vinceranno no? un po' te lo dice anche Meluzzi no? Meluzzi che è contro il 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 mainstream contro la politica di Biden contro lo strapotere americano in Italia alla fine conclude i suoi discorsi dicendo meno male c'è la Madonna che ci salverà cioè che fai? va passi da Biden a Meluzzi? passi da 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 Conte alla Meloni lo ridiciamo? la Meloni che ha scritto nel suo libro che lei parla tutti i giorni con il suo angelo custode a Rahel ci facciamo governare da Rahel ecco la gente preferisce o da una parte o dall'altra preferisce sentirsi protetta da un gruppo di persone categorizzata da un gruppo di persone le quali ti garantiscono che tu nel loro gruppo sopravvivrai non andavi perché quelli ti fanno morire stai qui perché tu avrai la vita eterna carosello la cellulite è una malattia io ti do questo prodotto e te non invecchierai mai che differenza c'è tra Rai 1 e Vanna Marchi? nessuna e Polidoro che faceva? lavorava su Rai 1 cioè non ci dobbiamo aspettare una cosa diversa no? mi sembra chiaro allora c'è un certo numero di persone nel mondo che sono la maggioranza eh? che vogliono essere rassicurati rassicurati esattamente rassicurati ed è una cosa umana normale psicoanaleticamente tranquilla io e tu probabilmente siamo insieme in questa serata siamo dalla parte di coloro che dicono svegliatevi perché le cose non stanno così voi siete i creatori dell'universo prendete su di voi la responsabilità delle vostre azioni e non demandate ad altri la possibilità che voi viviate in serenità la serenità la dovete avere dentro di voi la dovete costruire giorno per giorno dentro di voi non è certamente Polidoro che vi farà vi darà le regole perché voi viviate in tranquillità Polidoro vi vende una serie di cazzate allucinanti ma se ci volete credere lo dovete fare perché questa sarà la vostra esperienza anche perché se mi permetti aggiungo una piccolissima cosa che forse però è un piccolo indicatore di nuovo di dove potete trovare la vostra idea ed è proprio questo come ha detto Corrado fatela l'esperienza ed è il preciso motivo per cui uno come me che adesso mi metto in mezzo ma insomma non sono nulla tra questi grandi nomi e scusatemi se ho messo un Polidoro in mezzo ai grandi nomi ma comunque è conosciuto però ecco quindi io non c'entro niente però l'idea qual è che uno come Corrado Malanga vi può tranquillamente dire ascoltatemi studiatemi criticatemi e andate a sentire Polidoro e fatevi le vostre idee Polidoro non vi dirà mai andate a sentire Corrado Malanga studiate velo e fate le vostre idee perché dopo ve le fate e dopo lui veramente ecco lo stesso motivo per cui non si vedrà mai un confronto tra Malanga e Polidoro perché uno come Polidoro ci avrebbe solamente da perdere guardate io non credo che lui avrebbe da perdere secondo me avrebbe da guadagnare perché sostanzialmente potrebbe imparare un sacco di cose che non sa ma la conclusione mia finale è la seguente se qualcuno mi vuole fare delle critiche io sono apertissimo a tutte le critiche come sono sempre stato ho scoperto che però negli ultimi 30 anni di vita non c'è stato nessuno in grado di sostenere una critica qualcuno ci ha provato io gli ho risposto e gli ho dimostrato che aveva torto e questo si è ritirato in buon ordine se Polidoro vuole dimostrarmi che io ho sbagliato in tutto ciò che ho detto a partire dagli studi sugli alieni che lui non avrebbe mai avuto il coraggio di fare agli studi sulla coscienza che sono legate alla nuova fisica e ai nuovi premi Nobel che sono stati dati tre anni fa e oggi salto il premio Nobel del fisico italiano che si è fatto alla punturina perché è meglio tacere e piangere su questo episodio bene io sono qui e aspetto le vostre critiche voi mi fate una bella critica mi dite dove ho sbagliato e io accetto ah sono contentissimo perché mi tocca fare tutti i lavori a me se qualcuno mi aiuta a crescere io lo faccio volentieri questa cosa bene sono sicuro che Massimo Polidoro con la sua scarsissima cultura in tutti i campi non sarà lui ma magari può contattare un fisico massone di sua conoscenza che può tentare di farmi il culo e io sono qui che aspetto e io direi che come ha detto Corrado come si dice nelle arti marziali si dice mettimi però appunto non con le chiacchiere con i fatti come sai Corrado si dice mettimi a terra con una mossa che non conosco e ti chiamerò maestro ma invece devi prima mettere per cui grazie che dire Corrado era per dare uno sfogo a te ma in realtà come sempre ci dai tanti spunti tante lezioni pure a noi per imparare credo oltre le tante cose tecniche le tante informazioni imparare un po' questo veramente imparare la metodica tu parlavi di laboratorio ecco a me viene in mente la parola le metodiche io ho fatto cinque anni del laboratorio alle superiori vaghissimi ricordi però ti danno un metodo ti danno l'idea che qualsiasi cosa sentite infatti di nuovo qualora fosse passato qui stasera qualche fan di Polidoro veramente vi invito io andate a sentire i lavori di Corrado Malanga veramente studiatevi ascoltatevi leggeteli trovate un mare di roba e poi fatele dopo perché appunto dire cristallo Malanga o chiunque è un cretino è abbastanza facile bisogna argomentarlo e questo credo che davvero noi stasera sul fatto che Polidoro abbia delle evidenti lacune o per voglia o per incapacità però sembra che lo abbiamo documentato Polidoro praticamente in questo istante storico ma sicuramente migliorerà in futuro perché il secondo principio della termodiamica dice che la coscienza aumenta sempre l'entropia aumenta sempre quindi Polidoro sicuramente migliorerà migliorerò io migliorerai te in questo istante mi sembra un personaggio in cerca d'autore e non l'ha ancora trovato e no anche perché l'unico appoggio che ci aveva in Rai è morto da poco quindi detto questo e l'altro giustamente non vuole la concorrenza quindi adesso ci sarà il figlio di quello a fare il lavoro di quello e l'altro sta sui social ovviamente se sono spartiti la facendo grazie e invitiamo se qualora per sbaglio come dire inciampando in uno scalino Polidoro si trovasse da queste parti ma ovviamente il benvenuto a provare a confrontarsi con te con me o con uno qualsiasi che passa su questo canale credo che andrebbe bene ma comunque Corrado grazie e insomma grazie di tutto del tempo della pazienza e delle lezioni e compatibilmente con i tuoi impegni speriamo a presto alla prossima e grazie a tutti amici e buona serata grazie a tutti grazie a tutti